Lo studio Lambiase presenta alla scoperta di un nuovo mondo finanziario, la semplicità e la trasparenza costruite intorno ai tuoi desideri e alle tue aspettative. Un nuovo mondo dove potrai realizzare tutti i tuoi progetti con l'esperienza e l'assistenza continua di un gruppo leader nel proprio settore. Vieni a scoprire tutti i vantaggi dei prestiti personali per tutti i pensionati e i dipendenti con cessioni del quinto, dello stipendio e deleghe di pagamento a tassi e condizioni agevolate. Lo studio Lambiase vi aspetta in via San Sebastiano a Sala Consilina, info allo 0975 513564. Grazie per la visione! Grazie per la visione!